Su fratelli, su compagnie, su venite in fitta schiera, su una libera bandiera, splende il sol dell'avenì. Nelle pene e nell'insulto ci spingemmo il muto patto, la gran casa del riscatto, nion di lei vuole. E quante donne anche vanno all'altare con un'esperienza che non è solo di parole. Ci si sposa appunto, incontrato che si abbia l'amore. Il loro era stato il vero amore per staccare col passato. Soltanto da quel momento un uomo è tutto della sua donna, sta a lei saperselo trattenere. Ora, se Metello l'aveva tradita, significava che in qualche modo lei, Ersilia, gli era mancata. E poi, egli era il suo uomo. Nulla al mondo, nemmeno un suo ripudio, forse, l'avrebbe persuasa che non le volesse sempre bene. L'era impossibile pensare e perfino supporlo che, ora, egli fosse capace di trasferire il suo affetto su un'altra donna. Su una donna come Ida, poi, erano stati il suo profumo, i suoi gesti, le sue bambolerie, le sue mani curate, il suo vestito lilla di maggiorenne, e le sue arti di gattina, di esosa e di simpatia. Era dunque con Ida che andavano regolati i conti. Senza scalpore, senza tragedie, il modo di risolvere la questione tranquillamente, sapeva qual'era, infallibile, non occorreva ripeterselo. Oppure lei non era più quella sanfredianina tutta particolare che si diceva. Ma ci voleva una prova, la certezza ultima, lampante, che tutto ciò era vero. Da poterle cominciando chiuderla bocca alla bella Edina, che, altrimenti, io, ma Ersilia, o questa poi, o questa poi, o, 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 avrebbe fatto la dirata, l'offesa, avrebbe chiamato Mettello a testimone. No, ella si ripeteva, e ora si erano svegliate le rondini, il bacalaro lavava le diligenze e strigliava i cavalli sulla strada. No, Mettello non ci doveva entrare. Prese sonno che stava arrivando al lattaio. Si destò ad un'ora per lei fuori dal normale. Anche se aveva dormito appena tre ore, non le sembrò di aver sognato. Quel pomeriggio di martedì, così felicemente avviato, tanto da farle dire ad Annita quando si erano accommiatate sul ponto della carraia. Il sole sembra che tramonti, ma non tramonta mai. E poi, conclusosi, con la scoperta del tradimento da parte di Ida e la lunga notte angosciosa, non era stato un incubo della cattiva digestione. Al contrario, come se nel sonno i suoi pensieri avessero continuato a svolgersi, adesso la soluzione le sembrava perfino troppo semplice. Avrebbe dovuto, per procurarsi questa prova, e senza mettere in mezzo né Mettello né nessuno, seguire i movimenti dell'Idina, non perderla mai d'occhio, soprattutto quando Mettello fosse stato fuori di casa. La camera era in penombra. Mettello si era alzato, aveva chiuso le imposte perché non la disturbasse la luce. Sorse dal letto in sottoveste, a piedi nudi, andò in cucina. Le era improvvisamente ballinato l'idea che siccome Ida, la pinzocchera, era solita prendere la messa la domenica mattina, questo poteva essere un pretesto per incontrarsi con Mettello chissà dove. Lui era invece seduto al tavolo, era fiducioso e di buon umore, come la sera prima, mangiava. Mi son fatto un po' di panzanella, avevo fame, come se ieri fosse andato a letto digiuno. Tirò il cassetto della dispensa e prese una forchetta. Avanzò sul tavolo la zupiera verso di lei. Era la colazione loro solita, appetitosa. Le sarebbe costato un sacrificio rifiutare. Fino a che ora sei rimasta in piedi? Saranno state le tre? Oggi però è festa, ne farai a meno. L'arolini può aspettare. La guardava spettinata com'era e per via della luce che entrando in cucina le aveva ferito gli occhi, il suo volto era atteggiato a un involontario corruccio, aveva qualcosa di bambinesco e dirissoso. Ella avertì il suo sguardo e istintivamente si tirò su le spalline della sottoveste che si erano allentate e le lasciavano scoperto il seno. Le due mammelle, turgide, di donna ancora giovane e in fiore, si profilavano ora anche più pesanti. I grossi capezzoli premevano la sottoveste che lei, trovandosi seduta, le fasciava il torace, le modellava i fianchi e dava un risalto alla gola medesima, alle braccia tutte nude, agli omeri torniti sotto i quali sbuccavano i cespi neri delle ascelle. Egli la considerava e la vedeva giovane, stanca di sonno, una cosa sua, forse mentalmente, si malediva per averla così ingiustamente tradita, allorché lei gli rispose, ma siamo noi che non possiamo aspettare, ti sembra che possiamo aspettare? Già, egli sospirò. Non mi sono ancora lavato il viso, disse, quindi rimase in casa tutta la mattina. Ersilia si era recata a fare la spesa e tornando aveva visto Ida e Cesare voltare l'angolo di via Michelangelo. Essa nel suo abito lilla con la paglia e l'ombrellino aperto per ripararsi dal sole, la delicata. Metello leggeva seduto al tavolo e reggendosi la testa. Ersilia si mise attorno ai fornelli. Lui esclamò, or ho capito. Cosa hai capito? La teoria della forza lavoro che metti che un operaio lavorando dieci ore guadagni quattro lire. Quello che lui ha prodotto, il padrone lo rivende a cento, togli cinquanta lire del costo del materiale e delle altre spese. Praticamente il lavoro fatto unicamente da quell'operaio ha fruttato al padrone dieci volte più che all'operaio. e la rimase col soffietto in aria. È una cosa che ti torna nuova? Gli chiese. No, ma qui c'è la spiegazione. La spiegazione di che? Scientifica, lui disse e ripetè, della teoria della forza lavoro. Sarebbe a dire vuoi che ricominci da capo? Per l'amor di Dio non ti venisse l'idea di dimostrarmi che l'aceto si fa col vino. Egli scosse la testa, sorrideva. La verità, disse, è che certe cose quando le trovi scritte e dimostrate anche se le conosci per esperienza assumono un altro aspetto. Le parole stampate non sono mai come i discorsi che facciamo noi. Chi le scrive ci mette sempre un po' di magia. Ti insegnano a ragionare su un argomento e quello che magari pensavi di già ti sembra anche più vero. Ma è sempre tutta teoria. Come se la teoria non tenesse conto della pratica che il socialismo sarebbe altrimenti? Marx Ersilia lo interruppe. Si divertiva a contrastarlo come sempre e perché a lei faceva piacere di capire le cose che lui capiva. L'avrei voluto vedere Marx a mettere un mattone accanto all'altro come te? Per prima cosa ci sarebbe dovuto tagliare la barba. Marx metteva un ragionamento accanto all'altro e le sue idee dureranno più di tutti i mattoni messi insieme e gli disse Oh Mettello lei esclamò vuoi togliere il mestiere a pescetti? Era ancorché ironico un affettuoso complimento che essa gli faceva e gli chiuse il fascicolo della rivista si grattò sulla pancia mi fai dire certe mischerate e concluse e ripete la verità è che se domani non si spartisce qualche soldo una trentina perlomeno sono decisi a tornare sul lavoro basta diano l'esempio gli altri chi li regge chi vuoi dar torto sono tutti più indebitati alla fame di noi noi alla fame non ci siamo perché tu ti sacrifichi o tu o io non è la stessa cosa ella gli chiese e lo guardò negli occhi era un giorno come gli altri una festività a mezzo della settimana non c'era nulla di cambiato forse ho preso un abbaglio e la si diceva ma quando Metello le mise le mani sulle braccia trovò il modo di sottrarsi la sua effusione pranzarono lei rifece in fretta la cucina e senza che Metello le rinnovasse l'invito fu lei a proporre malgrado l'ora bruciata di andare subito da Libero e in San Frediano dove si trattennero fin a sera lui fece la partita con Giannotto e gli altri amici ai tavoli della bettola sul marciapiede di via del leone lei con sua madre con Luisa e Annita condusse le ragazze alla giostra che era porta romana poi videro i fuochi dall'altezza di ponte della carraia rientrando trovarono un biglietto che Cesare aveva introdotto sotto il loro uscio sono le nove vi abbiamo aspettato fino a questo momento già mette lo disse me ne ero dimenticato stamani tu eri a far la spesa ci avevano invitato ad andare con loro prima dei fuochi volevano passare da piazza barbano dove c'è quello che cammina sulla corda attraverso tutta la piazza e senza rete ti dispiace no no ella si affrettò a rispondergli io per la verità ci sarei anche andato volentieri uno spettacolo ma con le preoccupazioni che ho per il capo proprio non me la sentivo di sopportare i discorsi di quell'imbecille del piano di sopra e gli disse mentre si spogliava ma non aggiunse e la compagnia di quella esosa ora dopo una giornata in cui era riuscita a distrarsi con la nuova notte Ersilia ritrovò la sua angoscia e i suoi contrastanti pensieri gridino no disse prima di venire a letto voglio lavorare almeno un'ora Metello l'abbracciò e questa volta lei si lasciò baciare fugacemente si sfiorarono appena le labbra egli non manifestò nessuna animosa intenzione poco dopo picchiando col mazzuolo sugli stampini era idealmente sulla testa della bellidina che Ersilia colpiva l'indomani fu giovedì il giorno in cui Metello e Ida si erano dati appuntamento a Rifredi ignara ma tutta occhia e tutta orecchia le mosse ai propositi dell'isina e dell'idina Ersilia vigilava verso le undici Ida era scesa coi capelli sciolti come una maddalena perché se li era lavati e voleva farseli asciugare ma non completamente prima di passarsi le stiacce i ferri che gliele avrebbero arricciati perciò si era trattenuta appena qualche minuto aveva elogiato il suo lavoro e le aveva dato alcuni sciocchi consigli delle viole e delle stelle alpine e se ne era andata siccome oltre che curarsi i capelli doveva fare anche tante altre cose a cui la donna a mezzo servizio non arrivava un colpo di ferro al suo bel vestito lilla il bianchetto sulle scarpe a stivale oggi debbo trovarmi la mia sorella e ci sono degli invitati aveva detto Metello che era la camera del lavoro dal mattino tornò a pranzo per uscire subito dopo sedevano in permanenza in corso dei tintori lui e Giannotto e corsiero e del buono i delegati di cantiere aspettavano quei soldi della sottoscrizione dovevano arrivare da un momento all'altro prima di sera c'erano tutti i muratori di città e di campagna sparse e in attesa tra piazza Santa Croce e i cavalleggeri dopo nemmeno un'ora anche Lidina usciva senza fermarsi a salutarla in altre occasioni non avrebbe mancato di farlo e specie si andava dalla sorella tra degli invitati per chiedere come sto mi si vede la sottana di sotto la paglia è messa bene il vestito dietro come mi torna era scivolata anche lei giù per le scale magari fosse davvero scivolata come una ladra Ersilia stava di vedetta dietro la porta e la chiamò la spudorata ebbe il coraggio di agitare l'ombrellino dalla rampa sottostante ho tanta furia mi lascia andare arrivederci a stasera ciao Ersilia la seguì lungo Borgo Allegri e via Ghibellina costeggiando il muro del carcere le garitte l'avrebbero protetta casomai Ida si fosse voltata era attenta tutta tesa al suo scopo e nello stesso tempo se ne vergognava non si sentiva in nessun modo inferiore alla bella Idina anche come aspetto si era detto e intendeva come creatura capace di suscitare oltre che dei sentimenti dei desideri ma confusamente capiva che questo suo gesto di mettersi a pedinarla la diminuiva tuttavia era più forte di lei il suo cuore adesso era vivo dentro il petto batteva in fretta sembrava volesse spronarla non perdere di vista la nemica la seguiva a distanza Ida era una macchia lilla sotto l'ombrellino e in fondo a via Ghibellina di rimpetto ai pratoni sostò alla fermata degli omnibus salì sul primo che giunse un minuto dopo Ersilia rimase poggiata al muro del carcere avvilita era sudata e faticava a respirare attraverso la strada e imboccò via delle casine dove il sole batteva a picco e qualcuno dentro le stanze suonava il violino più avanti c'era una fontanella si chinò a bere si bagnò la fronte il suono del violino si era perso dietro di lei ora c'era soltanto un gran silenzio un gran sole e l'acqua che scorreva dalla fontanella passò una ragazza che andava in velocipide sotto quel sole con in testa un ampio cappello che si portava dietro una specie fu sul punto di perdere l'equilibrio mentre la sorpassava si riprese viva il progresso gridò allontanandosi nel sole Ersilia si asciugava le labbra col dorso della mano e non poteva fare a meno di scuotere la testa ora dentro casa non resisteva inutilmente aveva tentato di prendere in mano il mazzuolo andava e veniva dalla finestra per accostarla o per aprirla di più ora c'era troppa luce ora non ci vedeva e aveva un'arsione più beveva alla cannella più aveva sete dove potevano essersi dati appuntamento all'alberetta come due finanzati o veramente dalla sorella di lei che si prestava a farle da ruffiana oppure uno di quegli alberghi dalle parti della stazione dove sembrava ad essere le camere a ore ma ci vogliono denari e Metello non ne aveva ieri essa gli aveva dato una lira ma egli aveva perso alla fine della partita e aveva dovuto pagare a metà con Giannotto il vino bevuto poteva bastargli quel che gli restava per una camera ore o addirittura permetteva che pagasse l'idina essa aveva sempre del denaro con sé non usciva senza mettere almeno uno scudo dentro il portamonete guardando nelle vetrine ci si innamora sempre di qualcosa o si scoprono le occasioni soleva dire e poi uno si potrebbe sentir male Metello la provocava allora secondo lei la povera gente come dovrebbe fare i poveri non possono permettersi di avere dei capricci e se gli succede qualcosa li portano all'ospedale rispondeva l'esosa Metello la guardava in un certo modo Ida magari arrossiva sapeva farlo così bene e lei cieca che la proteggeva e se la stava ad allevare era una storia alla cronaca cittadina Novelli ci avrebbe potuto fare una commedia ruba al marito la sua migliore amica nemmeno Ida non era la sua migliore amica la sua migliore amica era Anita era Lidia era stata Miranda prima di morire Ida era una persona con cui era entrata in confidenza venendo ad abitare in questo nuovo quartiere lei che era nata e praticamente non si era mai mossa da San Frediano ma veri Dio avrebbe dovuto vergognarsi tutta la vita ad essere nata in San Frediano se non metteva a posto questa questione dentro stasera intanto non trovava requie e se fosse stata una sua fantasticheria da un momento all'altro lo sciopero si poteva risolvere con una sconfitta tanti sacrifici andati all'aria un altro mese e mezzo di retribolazioni per nulla e Metello in una circostanza del genere si dimenticava di tutto per correre dietro le sottane di Idina d'un tratto le sembrò di essere una moglie come ce ne sono una migliaia che si montano la testa con delle ubbie di nuovo volle credere di essersi sbagliata e che non fosse Metello l'uomo che aveva disceso le scale in punta di piedi l'aveva forse visto in viso costui era sicuramente uscito dall'appartamento soprastante e era il ganso della bellidina l'ingrata magari se l'intendeva con uno dei lavoranti di suo marito parlava spesso del più giovane dei tre un biondo che assomiglia tutto a un poeta al quale non saprei dire ma c'è li aveva confidato povero signor Cesare si disse Ersilia lo teneva anch'esse in poca considerazione che per la prima volta egli era apparso nei suoi pensieri immediatamente se ne liberò se non apre gli occhi da sé io non gli farò certo la spia non di meno era lontana da trovare pace la macchia lilla scomparsa dietro l'onmibus che imboccava i viali esattamente nella direzione opposta a quella dove abitava la sorella di Ida le tornava davanti agli occhi più viva della tinta dei fogli su cui poggiava gli stampini sarebbe bastato arrivare alla camera del lavoro e accertarsi della presenza di Metello perché il suo cuore ritornavasse la sua pace ma come con che scusa lei non era abituata a mentirgli davanti a Metello poteva tacere ma non dissimulare i propri sentimenti con le parole di questo non si sentiva capace come si sarebbe comportata gli avrebbe detto lì in mezzo ai suoi compagni mentre tutti loro erano impegnati da un mese e mezzo in una lotta per un pezzo di pane sai è stato un attacco di gelosia era pomeriggio inoltrato l'ombra aveva raggiuto gli ultimi piani e due visite una dietro l'altra inattese risolsero ogni suo dubbio le dettero quella prova che essa ad un tempo desiderava e temeva ma ora acquisita la certezza del tradimento di Ida ora che sapendo le si imponeva il dovere di agire e la ricco trovò compiutamente il proprio equilibrio fu l'ersilia che era sempre stata docile ma sanfredianina e che metello non aveva mai smesso di amare da prima Olindo che essa non vedeva da più di quindici giorni e che malgrado le sue insistenze non era voluto salire c'è metello è la camera del lavoro brava non sarei venuta a cercarla a casa saldo Olindo no grazie non c'è ragione era scortese da parte sua essa da quando lo conosceva e poi durante le prime settimane dello sciopero che era stato loro ospite non l'aveva mai trattato male gli aveva perfino dato cinque lire togliendosene di bocca ma pensando a sua moglie e ai suoi figli soli arincine schiavi e sottoposti alla buona grazia dello zio fattore come Olindo non aveva fatto che ripetere anche piangendo nel corso di quelle settimane e se adesso era per timidezza che si rifiutava di salire sentendosi debitore o che lo stesso si stava dimostrando di poco spirito un superbo in definitiva metello è uscito dieci minuti fa e lamentì mi sarete incrociati siamo davvero in croce e gli gridò i soldi della sottoscrizione sono arrivati chi lo sa se non lo sanno quelli che ci comandano vera dell'astio dell'ironia nella sua voce Olindo salga un momento solo un altro giorno Ersilia e si allontanò la giacca appesa una spalla le maniche della camicia rimboccate il berretto tirato indietro sulla nuca e il suo modo di camminare un po' curvo stanco a testa bassa Ela lo seguiva con lo sguardo vide che prima di svoltare in via Michelangelo gli venne incontro un giovane si parlarono brevemente e con una certa concitazione poi Olindo indicò lei che stava alla finestra e scomparve signora Salani disse costui dalla strada era Renzoni piccolo lo conosceva un paio di volte e Metello l'aveva invitato a cena salga egli non si lasciò pregare si pulì i piedi sulla soglia avanti di entrare si tolse il berretto e dette la buonasera per quanto dominasse malamente la sua agitazione si sedè accettò mezzo bicchiere di vino ed Ersilia non dovette far altro che lasciarlo parlare credevo proprio di trovare Metello anche del buono ne era sicuro va a svegliarlo vai mi ha detto quello si è addormentato non c'era altra spiegazione lo si aspettava alle sette guardò Ersilia e crede di attribuirle un sentimento ben diverso da quello che in realtà essa provava non gli sarà successo nulla di certo soltanto che lo si sta aspettando la sua presenza diventa di minuto in minuto più necessaria no Ersilia pensava nulla di male soltanto che non lo porta via a me solamente ma anche i suoi amici gli fa dimenticare il suo dovere lo fa scendere dalla considerazione della gente queste erano le parole che mentalmente ella si ripeteva ma disse è andato in San Frediano a trovare il bambino che sta da mia madre l'avrà portato a fare una passeggiata a bello sguardo verso Arcetri e il tempo gli sarà passato senza che se ne accorgesse questa non ci voleva esclamò il piccolo Renzoni dopo Bastiano suo marito è quello che ha la testa sulle spalle più di tutti e poi per quanto lui non si mette in mostra lo ascoltano capisce senza di lui Bastiano dura fatica a mantenerli buoni siccome i soldi della sottoscrizione non sono arrivati è nata una discussione corrono delle parole gli animi sono eccitati lei si può immaginare specie quelli del cantiere di Badolati friggono che è un piacere il Tinai per esempio è uno dei più decisi a tornare sul lavoro e non è il solo il tedesco lo conosce ha di già preso la sua decisione ora sul Tinai in particolare Metello c'ha un ascendente come accorgendosi d'essersi concesso un'eccessiva libertà si alzò in piedi quasi di scatto si accommiattò stringendole forte la mano speriamo che in questo frattempo sia arrivato affacciandosi alla finestra Ersilia lo vide che staccava la corsa certamente per essere presto al fianco di Del Buono l'entusiasmo e la devolzione dei vent'anni lo sospingevano e la rimase alla finestra era incredibilmente calma adesso padrona di sé e a modo suo serena il sole era calato dietro i tetti c'era il vocio e il solito via vai sulla strada Ersilia aveva appoggiato i gomiti al davanzale e aspettava